Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Parliamo di cronaca e nello specifico di traffico di sostanze stupefacenti. A Sant'Agata di Militello, nella Messinese, la polizia ha eseguito quattro misure cautelari. Il servizio. I poliziotti dei commissariati di Sant'Agata Militello e Capodorlando hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati di vari delitti legati al traffico di stupefacenti. Gli agenti hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale procura per l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di tre pregiudicati, dei quali uno di Alcara Lifusi, uno di Militello Rosmarino e l'altro di Capodorlando, mentre il quarto, anche egli pregiudicato e proveniente da Capodorlando, è stato sottoposto all'obbligo di dimora presso il comune di residenza. L'attività investigativa svolta dal commissariato di Sant'Agata Militello ha permesso di accertare l'esistenza di diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti provenienti anche dall'Albania, sia marijuana che cocaina. Agli autori della condotta criminosa è stata contestata anche l'aggravante per avere coinvolto nel traffico di droga un ragazzo appena 14enne, figlio di uno di loro, che nell'occasione fungeva anche da staffetta per il trasporto della sostanza. Le indagini hanno preso spunto da un fatto di particolare gravità che ha coinvolto un giovane, il quale, a causa della sconsiderata assunzione di stupefacenti, si è reso responsabile di comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità. Dopo essere stato soccorso, infatti, è saltato dall'auto in movimento che stavano usando i parenti per condurlo in ospedale, si è quindi impossessato di un'altra autovettura rinvenuta presso una vicina abitazione e si è dato alla fuga dopo aver sfondato con il mezzo rubato il cancello della stessa casa, rischiando anche di investire una donna presente sul posto. Continuando poi nella fuga, ha provocato un incidente che lo ha costretto ad abbandonare l'auto per proseguire a piedi nelle campagne circostanti, fin quando è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. L'attività investigativa ha portato anche al sequestro di una parte della sostanza detenuta per lo spaccio, 100 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato, destinata a una piazza di spaccio di Alcaralifusi e altri limitrofi paesi dei Nebrodi. All'esito degli accertamenti, gli investigatori hanno ricostruito come il soggetto, avente il ruolo preeminente con l'assidua e preziosa collaborazione degli altri, abbia nel tempo intessuto una solida e ramificata rete di collegamenti con i fornitori, gli intermediari, gli spacciatori e i consumatori presenti sul territorio, elevandosi a punto di riferimento degli stessi, il tutto nell'alveo di un'attività criminosa esercitata in modo professionale e continuativo, basata su rapporti stabili e consolidati. Spaccio di droga anche a Palagonia, nel Catanese, con i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un 55enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio nel centro storico palagonese che in taluri punti, per la sua particolare conformazione, spesso non consente un agevole transito a bordo dell'autovettura di servizio. In particolare, il capo equipaggio ha notato la porta aperta di un vecchio edificio disabitato, spesso ricovero di tossicodipendenti, e pertanto ha deciso di controllarne anche il suo interno. Nell'edificio, il militare ha trovato il 55enne seduto su una sedia e con il telefono cellulare in mano. La presenza dell'uomo in quel contesto, unitamente ai segnali di nervosismo che ha cominciato a manifestare alla vista del carabiniere, hanno indotto quest'ultimo a procedere a un suo controllo, anche mediante una perquisizione personale e dell'ambiente circostante, il che ha determinato il rinvenimento di 16 dosi di eroina e 3 di cocaina, tutte singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, occultate sotto uno straccio adagiato su un vecchio tamburo musicale. Il 55enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per lui l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Pugno duro della polizia a Siracusa contro gli spacciatori. Sono stati tratti in arresto due pusher, un altro è stato invece denunciato il servizio. Continua e incessante l'azione della polizia di Stato finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe. Gli agenti della squadra mobile, in collaborazione con il nucleo cinofili antidroga della questura di Catania, hanno arrestato un uomo di 36 anni già noto alle forze di polizia, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto a un controllo dai poliziotti mentre si trovava nella scala condominiale di una palazzina, sita in via Algeri, nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti crack e cocaina, nonché una somma di denaro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Nel corso dell'operazione è stato rinvenuto, sopra la cabina del vano ascensore dello stabile, altro stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. Pertanto il 36enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Nel medesimo contesto operativo, un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato perché all'interno della sua abitazione è stato trovato e sequestrato un impianto di videosorveglianza utilizzato per l'attività di spaccio che inquadrava sia le parche esterne dell'edificio che le scale condominali. Il giovane è stato denunciato anche per aver minacciato i poliziotti. Proseguendo nei servizi antidroga, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato anche una donna di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. A seguito di una perquisizione all'interno dell'abitazione della donna, i poliziotti hanno rinvenuto cocaina in pezzi solidi, hashish e materiale utilizzato per suddividere la droga in dosi, bilancini elettronici di precisione e una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto. Nella stanza, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve modificata artigianalmente con caricatore e 11 cartucce. La 52enne è stata pertanto associata presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. A Catania, invece, un uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari per maltrattamenti e minacce nei confronti della compagna. La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito delle attività investigative a carico di un cinquattotenne di Catania, indagato per i reati di sequestro di persona ed atti persecutori nei confronti della compagna, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico emessa dal GIP del Tribunale Etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Catania, Piazza Verga. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che si sarebbe reso responsabile nell'arco di due anni di reiterate ingiurie, limitazioni della libertà personale, minacce, percosse e lesioni personali in danno della compagna, una cinquantenne catanese. La relazione sentimentale tra i due, iniziata nel settembre 2020 e proseguita con sporadici periodi di convivenza, si sarebbe caratterizzata sin dall'inizio dalla gelosia morbosa dell'uomo che avrebbe rassicurato la donna di farsi carico di ogni sua esigenza e l'avrebbe convinta a lasciare il lavoro per collaborare presso la sua attività commerciale. Il cinquantotenne, in una escalation di predominanza e sopraffazione, avrebbe fatto terra bruciata intorno alla donna facendola allontanare dalle sue conoscenze, dalle amicizie sui social network, Facebook e da quelle che aveva allacciato fino a quel momento nell'ambito delle sue esperienze professionali. L'uomo, in particolare, quando ancora la cinquantenne lavorava autonomamente, avrebbe preteso di scortarla presso i clienti da cui si recava e in più occasioni gli avrebbe chiesto di documentare fotograficamente il luogo dove si trovava e l'attività che stava svolgendo. Tali atteggiamenti ossessivi e limitativi della sua libertà sarebbero stati l'argomento principale delle liti tra i due, che nella maggior parte dei casi si concludevano a discapito della donna con insulti, scatti d'ira, aggressioni fisiche e minacce di morte che spesso sarebbero state accompagnate dall'allusione a conoscenze negli ambiti malavitosi. In due occasioni il cinquantotenne avrebbe puntato un coltello alla gola di lei e l'avrebbe costretta poi a inginocchiarsi, a chiedere perdono, mentre in almeno una decina di episodi la cinquantenne sarebbe stata ostaggio dell'uomo che avrebbe chiuso a chiave la porta del suo negozio impedendole di uscire. All'inizio del mese di novembre scorso la cinquantenne avrebbe deciso di intraprendere una nuova attività lavorativa e di interrompere la relazione sentimentale, tuttavia tali iniziative non sarebbero state di gradimento dell'uomo, il quale avrebbe preteso di parlare con la cinquantenne che sarebbe stata avvicinata minacciosamente e trattenuta per le braccia in presenza anche di sua sorella, insultata nell'occasione. I due si sarebbero incontrati alla fine del mese di dicembre scorso per la reciproca restituzione di alcuni effetti personali su richiesta del cinquantotenne, il quale nella circostanza l'avrebbe prima accusata di intrattenere un'altra relazione e poi sarebbe piombato improvvisamente all'uscita del suo nuovo posto di lavoro dove l'avrebbe aggredita nuovamente sferrando le due forti schiaffi al volto. Quest'ultimo episodio avrebbe piegato ogni resistenza psicologica della donna che in passato non aveva mai denunciato l'uomo, determinandola a raccontare numerosi gravi episodi di violenza dettagliatamente riscontrati dai carabinieri della stazione di Piazza Verga. Ci spostiamo adesso nel Nisseno per parlare dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato, controlli che hanno portato alla denuncia di 10 persone. Il servizio. Nel corso dell'attività di controllo del territorio svolta nella provincia di Caltanissetta, la Polizia di Stato in diversi interventi ha denunciato 10 persone all'autorità giudiziaria e sequestrato cocaina, hashish e marijuana. Un 45enne è stato deferito per il reato di atti persecutori, un 35enne è stato invece indagato per truffa. Un 17enne e un 63enne sono stati denunciati poiché nel corso dei controlli sono stati trovati in possesso di armi due trentenni invece per maltrattamenti in famiglia. Un 70enne è stato deferito per negligenza nella detenzione di armi, un 34enne per evasione dagli arresti domiciliari. Una 44enne e un 27enne infine sono stati denunciati poiché trovati entrambi in possesso di sostanze stupefacenti. La prima con tre involucri di cocaina e marijuana e il secondo con quattro stecchette di hashish. Servizi antidroga a Messina da parte della Polizia. Un 27enne è finito in manette, un minorenne è stato invece denunciato. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un blitz antidroga presso il rione Taormina, i poliziotti delle volanti, con l'ausilio di una squadra del reparto cinofili di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto un messinese di 27 anni e denunciato alla competente autorità giudiziaria un minore di 17 anni, anche lui messinese. In entrambi i casi contestata la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le volanti hanno cinturato l'area al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, in ausilio il reparto cinofili che ha garantito efficaci perquisizioni e controlli approfonditi lungo le strade del rione. Oltre 300 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati a carico del 27enne messinese, a seguito di una perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento di 5 grandi involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente, parte della quale nascosta ai piedi della culla del bambino in camera da letto. La restante parte invece era distribuita negli altri ambienti della casa, insieme al materiale generalmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi, il tutto sequestrato insieme al denaro ritenuto probabile provento dell'attività di spaccio. Secondo una prima stima, la sostanza trovata avrebbe fruttato oltre 1700 dosi da smerciare nel mercato cittadino. I poliziotti hanno pertanto proceduto all'arresto del 27enne, peraltro già gravato da numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nel medesimo rione invece, presso l'abitazione della 17enne messinese, la droga è stata rinvenuta in una cassaforte a muro. A condurre i poliziotti alla cassaforte, il cane antidroga che con il suo fiuto infallibile ha sin da subito puntato e segnalato il luogo dove veniva occultata la sostanza. Rinvenuto, nello specifico, un involucro in cellofan contenente un panetto di circa 30 grammi di hashish, nonché altra marijuana e un barattolo con dentro semi di canapa indiana. Tutta la sostanza trovata, unitamente al bilancino di precisione digitale, è stata sottoposta a sequestro e il minore denunciato alla competente procura presso il Tribunale per i minorenni. Infine, nell'ambito del medesimo servizio antidroga, i poliziotti hanno trovato due persone in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Entrambi sono stati debitamente segnalati alla competente autorità amministrativa, quali assuntori abituali. Spostiamo ad Agrigento, dove è stato chiesto il rinvio a giudizio per tre ufficiali dei carabinieri. Sono indagati per rivelazione di segreto d'ufficio. C'è stata infatti, secondo l'accusa, una fuga di notizie che mise concretamente a rischio il buon esito dell'attività d'indagine finalizzato al trasferimento del luogotenente Gianfranco Antonuccio, che sarebbe stato poi arrestato nell'ambito di un'operazione del ROS. Ci fermiamo qui, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia.